Salve ragazzi e benvenuti in questo lunissimo video, quest'oggi siamo su The Forest Ma prima di lasciarvi il video vi ricordo che siamo in live ogni lunedì dalle 14.40 alle 16.40 sul sito Viola, il link è in descrizione E detto questo vi auguro una buona visione A dopo Nell'episodio precedente Voglio vedere un'altra casa Sono bacche queste Ok qua c'è l'accampamento, vediamo se c'è qualcosa da bere No! Ma cosa? Esattamente, è successo di tutto E non è finita qui Lì si è buggato, perfetto Ma Basta Ok Ma tutti buggati qua, non ho capito Dovremmo esserti quasi arrivati Eccola Quando si fa buio su questo gioco ragazzi è una cosa incredibile Mamma mia No no Sembra di sentire qualcosa Forse sono io da solo che faccio rumore Può darti No Oh no, di nuovo no Di nuovo no Dai Lo sapevo dovevo fermarmi e mangiare Solo che pensavo di essere inseguito Non so effettivamente se ero inseguito o no Però questo si può definire una sorta di gulag Riferendomi a pod intendo È un modo per salvarsi insomma Ok Era questo che avevo trovato Però io spero di farcela stavolta Che l'ultima volta L'ultima volta che abbiamo salvato È passato un po' Mi sa Facciamo così Ah Arma più danni meno velocità È male Qua Ho bastoncini bagnati Tipo Non lo so Vabbè intanto abbiamo questo E si vede anche molto meglio così Però lo dobbiamo rifarlo No No, 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 no No, non ci credo Ma bastano due colpi Tre giorni sopravvissuto No, no Adesso dove respawniamo Cioè Come A che punto respawniamo Dimmi che ho salvato prima La casa non ce l'abbiamo in sicuro L'idea della casa qua Infatti Abbiamo la trappola Abbiamo solo la trappola Secondo me Secondo me qua deve ancora accadere Il fatto che arrivino Arrivi da noi O al massimo è appena successo Ok ragazzi Ho appena rifatto la prima parte Dove I tizi attaccano Infatti qua c'è la trappola attiva Tra l'altro Uno è riuscito A schivare la trappola Correndo Adesso mi servono altri Bastoncini Per Per ricaricare la trappola Comunque sia Ho salvato Così Nel caso Dovessimo Morire di nuovo Su questo gioco Almeno Torniamo a dopo L'attacco Così facciamo prima Non ci credo Mi sono fatto danno Con i tronchi Davvero Comunque Io andrei Verso la casa Quella là Di nuovo Per semplice fatto Che non so se vi ricordate Nello scorso episodio Se non l'avete visto Andatelo a vedere Ve lo lascio In descrizione Vi lascio la playlist Di solito Poi ve lo lascio Nelle schede Insomma da qualche parte Perché proprio lì Ci sono delle bacche Che danno anche La sete Anche l'acqua Ah no Però si danno per l'acqua Credo Vabbè Queste bacche Queste In teoria Ci davano anche Da bere No? Ho provato a cliccare Taste a caso No forse no Vabbè E meno male Che ho salvato Forse alcune rambele note Non lo so Ah no Meno male Che ho salvato Prima dobbiamo fare Questa parte qua Vabbè Prima o poi Ci dobbiamo andare Mi sa Qui c'è una mappa Ma non si capisce niente Ok qui c'è l'acqua Quindi direi Che l'accendino Il fuoco Non serve a molto Dove siamo Ah ok Noi avanziamo Tranquillamente Qui dovrebbe esserci qualcuno Credo No Ah Che spavento Combiniamo subito Qua c'è una buffola Tra l'altro Busola Tra l'altro Tra l'altro Delle altre ricette Vabbè Adesso lasciamo così Perché dopo un po' Si spegne il fuoco Comunque qua Avevo visto altre ricette Aspettate Equipaggio Equipaggio Abbiamo la torcia Adesso Però non so Una corte Ancora la nave Quella lì Barca Non so dirvi Quanto duri Ma in teoria dovrebbe far danno lo stesso Se colpiamo i nemici Quindi va bene Forse fa meno luce Non so Mi dava un po' questa impressione Prima Si può sapere dove stiamo andando Stiamo abbassando sempre di più Ok Qua c'è un cunicolo Caricamento Il livello di energia Basso Andiamo bene Niente Ok Adesso si vede un po' di più Ecco Come non detto Ah Vabbè Arma con veleno Coi denti Arma più danni Più velocità Questo cos'è Boh Combina Cos'è cambiato Non lo so Un'altra corda Oddio Oddio Cos'è sta roba Non ci credo Ma cosa sono Bombe Allora Siamo tornati qua In superficie Qua non c'è acqua No Vi ho capito come si fa bere Acqua pulita Mirtilli Foglie e vali Comestibile Questo è velenoso Forse abbiamo mangiato questo Prima Cibo e acqua Raccoglitore d'acqua Abbiamo già fatto Però poi sull'acqua Non dice più nient'altro Tipo per purificare Qualche genere Quindi Dubito che ci sia Quest'opzione Ok La Molotov Si fa così Va bene Però non abbiamo più La bottiglia Dovremmo andare a cercare Forse Oh Cosa mi ha colpito Ah è l'acqua Di nuovo E dove trovo Dell'acqua Allora Sono risolto nuovamente Io direi Muoviamoci fin da subito Ad andare verso di là Da qualche parte Sperando Sia che nella casa Ci sia Non lo so Per quale motivo Il contenitore con l'acqua Che si può bere Se di trovare qualcosa Altro da poter bere Non lo so Che qua Non mi fa bere neanche qua Ah si Oh Forse l'acqua Che non è Granché Non è pulita Non lo so Vabbè ma intanto Come la fa bere Da qualcosa Se qua c'è qualcosa Di vestiti E qua E dove Serve Una TNT La dinamite Ok Qua c'è Del cibo Una bottiglia È una bottiglia Quella Sì Nice Proviamo subito Equipaggia Ok Proviamo ad andare A vedere qua No Devo Dove Infuocarla Maglio La testa Dove ce l'ho Qua c'è quella Famosa caverna Che avevamo trovato All'inizio Se noi ci Provassimo ad entrare Però magari Prima ci Converrebbe salvare Visto che sta Anche venendo buio Quindi andiamo là Salviamo Intanto siamo In un altro posto Quindi già la situazione Dovrebbe cambiare Eccoci Cercando di non fare La fine Della volta Scorsa Con tre Ho bevuto O sbaglio Cliccando Numero tre Vabbè Io ti direi Però di equipaggiare L'accendino Se ci capiamo Qualcosa Oh Dai 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 Ci siamo Ci siamo Non si vede Più niente Cosa vuol dire niente Io non so Dove sto andando Cosa sono rocce La casa Che bello Non mi lascia dormire Da usare Per Per bollire l'acqua Forse con la pentola Possiamo bollire l'acqua Appunto Per Per poterla Poi bere E cuocerci dentro La roba Quindi Ok Ok Siamo pieni di roba Allora Un bolladaria Ok Quel verso Non mi è piaciuto Vorrei sapere Perché non mi fa dormire Cioè Io faccio salva Però non mi fa dormire Vabbè Io aspetto Manca poco Si spera Dai Ah ok Devo aspettare che si ricaricasse È giorno Bene Tieni qua Tieni qua Proviamo così Ok ragazzi Il video termina qui Io vi ricordo che trovate tutti i social Qui sotto in descrizione Compresa La playlist C'è il link Direttamente per tutta la playlist Con gli episodi Non so Quando starete vedendo questo video Magari avrò già fatto altri episodi E niente Vi saluto Mi sembra di aver capito Questa serie vi piace Cercherò di mandarla avanti Detto questo Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao